La tradizionale acclamazione di giubilo, arriccheggiata più volte di sera all'interno del Duomo di Ragusa, ha fornito una dimensione compiuta ad un rito di valenza storico, ossia la scinnuta, con i solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio Martini, che hanno quindi preso il via con uno speciale momento religioso, la cui tradizione si perde nella notte dei tempi, caratterizzata da grande devozione e da un entusiasmo incontenibile. A centinaia quindi fedeli che hanno assistito con trepidazione alla cerimonia della traslazione del simulacro del Santo Cavaliere, dalla nicchia in cui viene ospitato, fino all'absida del Duomo. Effettuata la scinnuta, poi i componenti del comitato, che cura i festeggiamenti, hanno proceduto a sistemare la lancia d'argento che colpisce il drago e le staff del Santo. Qualche minuto prima, stessa procedura effettuata per la traduzione dell'Arca Santa, anche in questo caso, utilizzando un sistema di argani molto ingegnoso ed efficiente, così come accade un centinaia di anni circa a questa parte. La chiesa madre agremita di devotiche, dopo la Santa Messa, si sono stretta attorno al glorioso patrono, dimostrando un immutato affetto e destinata a rinnovarsi da qui sino ai giorni in cui si darà la festa esterna, quella prevista per fine maggio.